Possiamo fare una relatività perfetta generale con questa comparazione F è uguale a Ma, E è uguale a Mc2. Vogliamo considerare tutta l'energia contenuta nella massa, perché E è uguale a Mc2 significa tutta l'energia della massa e non nella massa. In effetti, tra cui F è uguale a Ma e E è uguale a Mc2, possiamo considerare due azioni, both acting in line, riguardando la stessa massa M. Quindi possiamo affinare che F è diverso da E, come A è diverso da C2. Possiamo trasformare A in modo di essere una velocità assoluta come C2 è? Since l'accelerazione A è uguale a velocità 0 più velocità 1, è uguale a Mc2 è uguale a Mc2 è uguale a Mc2. In questo modo, comprendiamo che A, l'accelerazione assoluta, è uguale a Mc2 è uguale a Mc2, che è uguale a Mc2, che è uguale a Mc2, che è uguale a Mc2. E' uguale a Mc2 è uguale a Mc2, che è uguale a Mc2, che è uguale a Mc2. F è uguale a Mc2, che è uguale a Mc2, che è uguale a Mc2. E' 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 uguale a Mc2. Quindi non abbiamo considerato due dimensioni, le due dell'elettromagnetico, come l'elettromagnetico o come l'elettromagnetico, o come l'elettromagnetico, 1 x 1. In fact, il 10 decimetres cubit di 1 m3 esistente in un secondo può essere l'elettromagnetico, 10 decimetres cubit di 10 decimetres cubit, come la velocità di 1 decimetres cubit, going all in line, in all, the length of 10 rise to 3 decimetres cubit, only if the area is unitary 1. On the contrary, the C2 doesn't consider the electromagnetic section, as it was unitary 1, but it cannot be, since it is a real 1. The reality contains space and time. The space S over the unit S, and the time is T rise to minus 1, when T is equal to 1. So, 1 plus 1 divided T, that is the decimal time of the unit. Since 3 dimensions of space exist in 3 sides 1, 1 x plus 1 y plus 1 zeta is equal to 3 multiplied x, y, zeta, every one line, and is the absolute speed 3, every one, but 3 divided the C speed, that real one, is 1.0006922855 until the atomic unit, and contains 1 plus 0.0006922855, as the unitary time of the base, 1, 444.4905513100, rising to minus 1, where this base is made by the unitary bonds of the volume, of the reality, of the 90 as the one quarter of the turn, of the electromagnetism, and so on. Every bond, every bond, are the base of the time. The physicists made the wrong to measure something of absolute, as the C speed, in the reality. In the reality, the unitary electromagnetic section must be always more expanded than 1 m squared. In fact, its side n is 1 m plus 0.006922855, as the addition between n space and n rise to minus 1 time. We can adjust the E equal mc2, posing the E equal mc big 2, where c big is the unit of the electromagnetism in its velocity. In fact, m multiplied by 1, the unit of the electromagnetism, counts the energy in all the electromagnetic units of the m mass. In fact, it is 6 kg of water, those in 1 m3 existing every second, in atomic dimensions, 1 m3, is 10, rise to 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 10, a cube, every 10, rise to 10, rise to 10, rise to 10. In 1 only line . In un solo linee, 1m2 x 10m,binsichi 10m2 x 10m2 x 10m2 x 10m2 x 10m2 x 8m2 sono in un solo linee, è nella tre linee simultanei X, Y, Z, tre volte 10 metri ogni seconda e è la velocità di 100 m2 il suo tempo è unitario di 1 kg, quindi 1 kg è la speeda di 3 x 10 metri ogni seconda e è la unità della massa, è 1 kg. La unità dell'elettromagnetismo è quella di 1 kg, possiamo ragionare anche in questo modo 10 m3 è tutta la massa unitaria atomica. E' un ottimo punto di vista di rinnovazione, quindi è un ottimo punto di vista di rinnovazione silent from the space run by the light is the real C of the C big that is the volume of the mass that is 3 multiplied 10 rise into 8 meters cubed in the presenza di un tempo di un secondo e è la massa unitaria di 1 kg, questa è la unità C e è la quantità che, multipliata dalla massa M, può dare la quantità exattiva di tutta l'energia nella massa e non nella massa. L'energia nella massa è la trasformazione completa della massa in energia, cioè la espansione completa in tre linee. Al contrario, l'equazione di Einstein non expande l'elettromagnetismo nella sectione, ma solo considera le velocità del flore, l'elettrica e l'elettrica. L'elettrica è la massa in la sectione, multipliata dalla squadra della velocità, uno che è elettrico e lo stesso che è magnetico, rappresenta tutto il movimento della sectione e non l'espansione della sectione. Quindi, questa è la ragione, perché l'unità della massa non è espandata, ma è solo muovita in due direttori. e se noi non trasformiamo anche la sectione nella sua energia, abbiamo non tutta l'energia, ma solo l'energia della massa che si muove. La cosa è la cosa che si muove. Al contrario, tutta l'energia è quella che trasforma tutta l'elettrica in sua energia. Grazie 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 Grazie